Vincere 5 a 0 o pareggiare non cambia niente, siamo qualificati. Ovviamente che la gara è stata molto difficile e come dicevo io prima agli altri flash interview, loro sono grandi culpevoli, hanno giocato molto molto bene, hanno creato dei problemi, sono stato sempre nella partita e credito per loro, però per dire la verità, io non pensavo che loro potevano fare un gol, la partita noi non l'abbiamo giocato bene con pala, delle difficoltà tecniche tremende per costruire, per uscire, però senza pala la partita è stata sempre controllatissima e io ho pensato che un gol non ci faranno. L'hanno fatto e dopo quando l'hanno fatto è una situazione di rischio, una situazione limite, un gol e siamo fuori e si poteva interpretare di due modi, uno è controlliamo e andiamo a supplementare, che supplementare sono 30 minuti, 30 minuti c'è più spazio per gestione della gara e noi non l'abbiamo pensato così, abbiamo pensato di rischiare come abbiamo rischiato. Abbiamo cambiato un quinto per un terzo attaccante, fine per Sharabi, abbiamo dato di nuovo un po' di gambe fresche alla squadra e siamo stati noi, negli ultimi minuti, noi vicino a fare il gol del passaggio di turno. Come spesso accade mister? Soprattutto in campionato, la Roma segna tanto, soprattutto nei minuti finali, è successo anche questa sera, abbiamo visto, ha fatto i complimenti all'avversario, possiamo dire che oltre al passaggio del turno sono stati evitati anche 30 minuti perché tra due giorni c'è un'altra partita importante. Già siamo con 30 minuti di più di loro perché ovviamente hanno giocato la sua partita lunedì, tutta la settimana, riposare e preparare, però a me non piacciono alibi, non voglio stare qui già a trovare delle scuse, abbiamo la partita da giocare domenica e andiamo con tutto quello che abbiamo.